buongiorno buongiorno è lui non è lui certo che l'ho schiso mi schisa la mattina per bevuto un buon caffè il nostro amico carlett kent si dirigeva no vabbè sta pieno anche stamattina per super stronzo una mattina piena 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 sta pieno sta pieno che poi sta pieno si può utilizzare per tutto quindi vabbè oggi mi sento super stronzo però la barba come me così senza schiuma niente a pelle a pellet figaro qua figaro la mamma mia bassetti al top lascio sempre quattro peli o no ora pia le mancherette non le hai messi di ricontanea che ora pia le chiavi del deltaplano ma non la trovo ma buongiorno 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 non sto cazzo no ma perché eh eh io vò oh di corpo dove andrà a fa culo oh che bello la mattina svegliarsi e andrà a fa culo ah grazie no ci vediamo dopo che eh per un po' non ci vediamo però dopo che sto vicino vicino ti fa anche il pennello con il tuo capello ok mi fa i capelli così e levate i pennelli ma a lavorare ecco adesso tranquillo non si preoccupa ci vediamo dopo e mi raccomando eh comportate bene verso le 7 e 30 pini va bene si va bene dove andrà oh doppio vaffanculo e si va giorno come va tutto bene va bene io vado eh arrivederci grazie fuori sta pieno benissimo di che ma anche tania incredibile eccola vediamo un po' no io me la sento male ste paure ste paure le devo combattere anche perché so che c'è un amico mio eccolo il babbo drillo ma quanta figa vi fai si addrizza tutto il baffetto via si parte un must la banana pochette incredibile poi mi ha comprato sta banana è più alta di me cioè mi metto non soggezioni già di prima mattina vedo sta banana come fa a mangiarla io guarda il lavoro una delle banane più alte d'Italia auguro a tutti una buona giornata oggi si rinizia lunedì vi ricordo che la prossima settimana sarò in ferie quindi sarò molto di più con voi preparatevi buona giornata vi metto qua il tag del mio amico cantante Andrea Mingione eccolo qua ve lo metto qua andate tutti a seguirlo facciamomi vedere che siamo un team coccodrilli vai bam bam mi capita di taggare i miei amici o delle persone che mi chiedono un aiuto cioè grazie a voi esplodono i profili proprio una marea una marea di coccodrilli grazie ragazzi ringrazio anche voi tempo su youtube pausa pranzo con carletto trovate tutte le storie del fine settimana quindi ragazzi è stato un fine settimana ricco fate swipe e andate a vedere soprattutto in questi momenti in cui non posso pubblicare più di tanto youtube vi aiuta oh no 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 oh basta che vuoi lasciare che mi tocca guardare il fratello il fratello e della sorella e tu tutta che gli resti aspettati ma è meglio ma è meglio ma è meglio ma è meglio a potete a questi che stanno sdraiando che stanno sdraiando ridono che mangiano bevono vabbè quando fai e trombano maaa non è vero no ah no e vai c'è là ma anche tu che non è vero tu sempre tromba io non avevo niente sempre la tromba ma te pare ma tu ti rendi conto non comandi più niente non comandi da allora te le dico tutte dai bene allora casa è la mia vabbè quello senz'altro casa è la mia eh vado vado a dubai ma tu a dubai ci vuoi ci baci casa la lasci qui no la vendo più 2 300k la portavia più 2 300k sì del camino 2 300k sto cazzo eh a te ti piace la porchetta? no no ti piace la bistecca? no e che ti piace? la figa maaa che ti piace? ehi la figa no fa bene ma ma te l'ha vinto un po' la mazza ma perchè fermate stronzo sono lì cosco beh che hai scritto ma che è l'amo del dottore ma che cazzo sta a correre quel venerdì? ma quale? quel venerdì che stavamo insieme ma io ascoltami dai dai è serio dai ma io non mi ricordo niente quel venerdì stavamo insieme sulla macchina mia aspetta accordiamo stiamo portando quel venerdì stavamo insieme sulla mia macchina tu sei salito sei vicino a me e mi ho fatto tutto quel bel giro insieme no? oh starcori o no? e beh allora ma che vuoi giocare? 05 verzo le 18.40 tu hai fatto una scoreggina tu? e le stronza ti è leva dì scusa tu hai fatto una scoreggia come mai vedi fatto quella scoreggia? io non lo posso non so mai che come te le come hai fatto quella scoreggia vattene Dio no Dio no eh ma com'è mai ha fatto quella scoreggia? come mai hai fatto quella scoreggia? come mai hai fatto quella scoreggia? L'ho mai fatto vedere, ora gli do la tangente. Adesso ride o no? Rido o no? Adesso ride o no? Ma quei voli! Rido o no che c'è la tangentina? Sì, sì, rido o no. Ehi, cazzo. E' contento. E non facci qualcosa, lascia a puttana. No! Lascia a puttana domani. Ma è ma cara. No, con 50 euro dov'è? Dove c'è? Domani è tutta sorca. Tutta sorca? Ma che cosa? Ti vengono di qui. Ma, senti che lavoro, guarda quanto è contento il coccodrillon. Questo si chiama collaborazione. Che sta raccontando? Spiacciono fra loro, le tigre, le tigre non discorrono. Ma che trasmissioni è? Quando fanno le trasmissioni, ci cazzo non te va bene. E' vero, non te va bene. Ma chi la dì? Ma chi la dì? Ti va bene? Ma chi la dì? E quella la fa vedere con la dì? No! Quando fanno le trasmissioni, Gerry, Ehi, cosa, la Maria, quelli altri. Ma questa è una trasmissione? E' un'attenzione, il vostro capitano, Carletto, che vi sta parlando. Vi ricordo che stiamo attraccando sull'isola, che mi fa i cazzi miei. Abbiamo navigato molto bene. Mi raccomando, non andate sul ponte, perché potreste volare. Un'altra persona famosa, molto famosa, salutato nonno Faustino. E' stato mandato a fanculo, anche questo. Indovinate chi è, voglio vedere. Non ci prenderà nessuno. Una domanda super frequente, mi dite sempre dove poter mandare dei pensieri, delle cose, delle lettere, qualsiasi cosa. Io, è salvato nelle storie in evidenza. Quindi adesso ve la metto anche qua, guardatela.